buonasera a tutti grazie a Elena Luevental e grazie al circolo dei lettori ma soprattutto grazie al nostro scrittore Shankarul Attilaka che ci ha incantato con questo romanzo. Allora questa sera parliamo di un romanzo che parla di temi molto importanti come davvero il senso della vita e della morte o il senso che ha quella follia collettiva che sono le guerre civili perché parla della guerra civile nello Sri Lanka che è durata ben 26 anni dal 1983 fino al 2009 26 anni durante i quali questo paese bellissimo perché è bellissimo è abitato da un popolo gentile e ospitale era come impazzito ma tratta tutti questi temi con la capacità che è del grande scrittore addirittura a volte di riderne di astrarsi di rappresentare le cose con ironia e questa è l'ironia che ci fa capire ancora meglio la follia umana quindi un tema molti temi importanti trattati attraversando genere letterari diversi e poi ne parla naturalmente lascerò la sua domanda la parola a al mister Karun Attilaka perché ci sono questa è una ghost story perché il protagonista è un fantasma il protagonista principale è un signore che si trova in una specie di si risveglia in un ambulatorio e si chiede cosa ci faccio qua e poi si accorge che nella fila dietro di lui c'è un signore che ha la testa sotto il braccio non è un ambulatorio normale e infatti arriva da una dottoressa la quale gli dice sì questo è un ambulatorio per morti lei è morto se ne faccia una ragione e lei ha sette giorni di tempo sette lune signor mali almeda lei ha sette lune per mettere a posto le cose della sua vita regolare alcune cose che non sono chiare eccetera questo personaggio che è un personaggio straordinario ricorda alcune cose della sua vita passata e altre no ricorda come scrive il nostro autore tre cose fondamentali le sue tre grandi passioni della sua della vita sono la fotografia perché lui è un fotografo di guerra il gioco d'azzardo e gli uomini perché lui è gay e aggiungere non necessariamente in quest'ordine ma non ricorda perché è morto e chi l'ha ucciso quindi all'interno di queste sette lune di questi sette giorni lui dovrà capire tutta una serie di cose compreso il fatto non da poco che non sa perché è morto quindi siamo negli anni della guerra civile e quindi c'è una ghost story c'è anche una detective story molto originale perché quando mai capita che il detective e la vittima siano la stessa persona perché lui è un fantasma a sette giorni per capire la verità è un romanzo politico perché affronta la guerra civile parlando di delle problematiche politiche dello sri lanca dell'epoca è un romanzo satirico ed è anche quello che sto per chiedere a lui e questo che vorrei sapere è anche un grande romanzo sull'identità è una riflessione sull'identità prima della sua risposta ho bisogno di farvi un chiarimento ci sono alcune parole che noi esiri e useremo e che voi dovete sapere per comprendere di che cosa parliamo un dizionariato di geografia culturale la geografia è stata abolita nelle nostre scuole ed è stato un grave errore allora per esempio sri lanchese e singalese sono sinonimi no sri lanchese è un cittadino della repubblica dello sri lanka singalese è un membro della comunità maggioritaria dello sri lanka sinala sin ha è il leone e c'è il leone sulla bandiera la maggioranza è costituita da questa comunità che è fondamentalmente di religione buddista poi c'è un'importantissima minoranza etnica tamil che sono arrivati dall'india attraverso ondate migratorie nel corso dei secoli e che sono per la grande maggioranza induisti poi ci sono i burger vedete che è un melting pot di culture lo sri lanka i burger che sono i discendenti dei coloni portoghesi olandesi e inglesi e il nostro scrittore viene da una città come galle che si trova nell'india nel sri lanka meridionale sulla costa sud ed è un posto fascinantissimo patrimonio unesco dove ci sono tutte le memorie del colonialismo portoghese olandese inglese ma anche comunità soprattutto singalesi perché siamo a sud mentre prego mi scusi non ho capito quanti sono perché non la sentiamo le percentuali di questi tre gruppi guardi forse sta rispondere meglio lui quante sono in percentuale ok concludo brevemente sì e quindi c'è questo per esempio fra i burger che invece sono pochissimi meno dell'uno per cento gli eredi del colonialismo c'è lo scrittore sri lanchese che è l'unico altro oltre al signor caro natilla che ha vinto il booker price 40 anni fa michael ondetti con il paziente inglese che poi diventò un famoso film insomma ci sono e poi ci sono anche gli aborigeni originari dello sri lanka i vedda che vivono nel profondo delle foreste quindi quante culture quante etnie e tutte queste culture e queste etnie vivevano insieme e poi scoppia per ragioni storiche di cui oggi magari non che oggi non approfondiremo scoppia questa follia che lui racconta nel libro la follia della guerra perché la guerra civile è la meno civile delle guerre perché all'interno dello stesso popolo e tu fino a ieri andavi da un fruttivendolo a comprare la frutta e da oggi il fruttivendolo è diventato un tuo nemico perché è di un'etnia diversa e fino a ieri per vent'anni hai comprato la frutta da lui quindi è vero proprio scoppio di follia ma adesso lascio la parola al nostro autore questa questo romanzo e lo dico non perché ha vinto il premio il booker prize ma perché l'ho amato pagina per pagina questo grandissimo romanzo perché per molte ragioni che poi dirò oggi secondo me è davvero un capolavoro è una grande riflessione sul concetto di identità è una grande allegoria sull'identità please that was a big question um buongiorno grazia um apologies for the late start we have a thing called sri lankan time but i hear there's a thing called italian time so i feel quite quite at home here um so the question of identity um yeah uh sir you asked about um percentages so roughly i think the sinhalese buddhists uh 70 percent and then you have yeah let's say 10 tamil 10 muslim and 10 burga i think that's kind of wrong but maybe 30 percent of minorities but the thing is this uh you you wouldn't be able to tell them apart if if you paraded singhalese tamils and muslims and burghers on this stage uh we all look alike but yet these divisions have persisted and um i i don't believe personally having lived in that country and traveled around it that sri lankans are bigoted or racist at i see uh muslims and tamils and singhalese and burghers working together speaking each other's languages but yet um come election time this is a lazy way to win elections when elections come along it's always uh because they know if they can get the singhalese buddhist majority they can win the election and so they always say uh watch out for that minority uh watch out for that terrorist um and that seems to be the 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 sad case of our uh our country and the civil war ended in 2009 so you think these questions would be over and i i hope they are but let's wait for the next election cycle um but identity yeah i i think sorry allora bella domanda bella premia questa domanda devo dire dunque innanzitutto scusatemi se abbiamo cominciato un po in ritardo ma a noi abbiamo io diciamo c'è il quarto d'ora accademico sri lanchese che mi dicono sia simile al quarto d'ora accademico italiano per cui ma alla fine non è andata poi così male ecco qua allora eh prima della della questione dell'identità però anche collegata a questo alla domanda appunto che poneva il signore eh riguardo alle percentuali allora abbiamo la maggioranza appunto di eh singalesi buddhistiche del 70 per cento e poi abbiamo le 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 tre minoranze diciamo così che sono più o meno tutte direi intorno al dieci per cento e parliamo appunto dei tamil dei musulmani e dei burkher appunto ma una cosa importante da considerare è che quando si va in giro per strada non è che si distinguono uno dall'altro sembrano tutti eh uguali diciamo e eh non ci sono tutte queste eh spaccature all'interno del paese tra le persone che vivono nella loro quotidianità e io devo dirvi che appunto io in Sri Lanka ci ho vissuto ci ho viaggiato e ovunque vai non è che ti rendi conto che ci sono queste tensioni o queste divisioni tra le persone non c'è neanche un tipo di come dire razzismo nei confronti appunto delle minoranze piuttosto che di altri gruppi questo finché non è tempo di elezioni quando ci sono le elezioni le cose cambiano perché perché forse in maniera un po' pigra eh si tende a fare campagna elettorale dicendo ah attenzione perché se vogliamo che vincano appunto i buddhisti gli altri sono tutti terroristi gli altri sono tutti cattivi e quindi appunto eh ci troviamo in questa situazione per cui è vero che la guerra civile è finita nel 2009 però mi chiedo è veramente finita? È finita per sempre? Chi lo sa? Al momento appunto non possiamo dirlo But answering your question about identity story is about Mali Almeda so Almeda is a Portuguese name so his mother was Berger his dad was a Sinhalese Buddhist and he was also conversant in all three languages and I really wasn't thinking of these lofty topics when I was writing it I wanted to write a ghost story and a murder mystery and so this was a war photographer who was I suppose apolitical and he he was employed by whoever would pay him and so he worked for the the Sri Lankan government for the Tamil Tiger separatists he also took photos for for the JVP Marxists and and there were a lot of foreign influences there as well and yeah the question does arise in the novel what it means to be Sri Lankan and the obvious answer is anyone who lives in Sri Lanka should be Sri Lankan but yet we have these ideas that it belongs to the Sinhalese Buddhists and we we hear this all the time the the Tamils can go back to India the Muslims can go back to Arabia but this is our country and that's really what the civil war was sparked in 1958 when they when anglophone prime minister who used to wear a suit and tie put on a sarong and converted to Buddhism and said yeah this is a singular Buddhist country and he and Sinhalese is the only language and as a result a lot of the minorities to this day ended up fleeing the country so the burgers now live in Australia and Canada the Tamils and the Muslims are still with us but yeah it expelled a lot of the minorities and I suppose in the 70s there was justification for Tamil youth to take up arms because they were made to feel second-class citizens and that was really the clash and yeah I'm not even going to mention the aboriginal inhabitants of the country because they are they are pretty much invisible as far as the electoral processes are concerned but in the end I think these ideas are are contrived these don't really because when there's a cricket match everyone gets behind all all the time our best bowler was was a Tamil and no one cared because he could get anyone in the world out so these things yeah sport can unite us and recently in 2022 we had this uprising which I believe went viral around the world I believe you saw the pictures of us jumping in the president's pool and watching tv from the president's couch and for that moment so we are capable of uniting but as you say 26 years 30 years we had this clash between the idea that the country belongs to one sort of people and then the minorities decided that we needed a separate state in this tiny little island and so we have Star Wars. on earth Almeida, allora Almeida è un nome portoghese, però il papà era buddista ad esempio quindi già lui, e tra l'altro parla fluentemente tre lingue, quindi anche lì l'identità è già tutto un programma diciamo e effettivamente quando io ho cominciato a scriverlo, questo libro non è che avessi questi grandi ideali di scrivere chissà che storico intellettuale più che altro volevo scrivere appunto una ghost story, una storia di fantasmi e una detective story quindi un insomma un detective, qualcuno che deve indagare su qualcosa che è successo questo personaggio è un fotografo è un fotografo un po' particolare però effettivamente perché benché lui non sia politicizzato diciamo così, è comunque un fotografo di guerra e come tale lavora per tutta una serie di clienti, ad esempio lavora per il governo, lavora anche però per le tigri Tamil appunto, però lavora anche per il JVP quindi per i maxisti, però lavora anche per l'estero diciamo le presenze estere nel paese insomma lavora un po' per tutti e quando uno si pone la domanda ma chi è uno sri-lanchese? beh in realtà ti verrebbe da dire beh uno sri-lanchese è qualcuno che nello Sri Lanka ci vive ma attenzione perché invece qua poi ci sono appunto si va a fare tutta una serie di specifiche che appunto dicono ma se uno è tamino non è buddista ma se uno è musulmano sono cose ben diverse ci sono le maggioranze ci sono le minoranze e quando è che è successo come dire quando è stato il punto di svolta il punto di svolta è stato nel 1958 quando appunto è avuto è cominciata questa guerra perché? perché il primo ministro un bel giorno ha deciso di che il buddismo sarebbe dovuto diventare appunto la religione del paese e quindi questo ha scatenato poi una serie di reazioni perché appunto le minoranze che appunto buddiste non erano si sono trovate in una situazione tale per cui ad esempio la fuga poteva essere l'unica opzione per cui ad esempio molti sono andati in Australia però ad esempio i tamini sono rimasti come altre minoranze per l'appunto e quindi poi ci si è trovati a fare i conti con la guerra civile e come si poteva appunto in qualche modo cercare di ovviare a questa situazione quindi alle problematiche del paese sicuramente anche con la come dire l'istruzione in un certo senso per capire che cosa era successo in passato e capire come si era arrivati dove si era arrivati e sulle popolazioni aborigine non ne parliamo proprio perché non li vede nessuno sono assolutamente invisibili loro soprattutto ovviamente ai fini del processo elettorale quindi insomma ci sono tutte come dire questo è un po' lo sfondo su cui va visto con cui va visto il paese però poi c'è anche un'altra cosa da considerare nel senso che queste idee sono vere e questa è la realtà però forse anche una realtà un po' forzata nel senso che quando poi c'è la partita di cricket e qui faccio una un po' come il calcio per noi il cricket in Sri Lanka cosa succede succede che poi sono tutti dietro la stessa squadra tutti che sono felici che fanno il tifo il nostro più famoso bolo si chiama l'attaccante per capirci del cricket più famoso è Tamil e non gliene frega niente a nessuno che sia Tamil nel senso che tutti fanno il tifo per la squadra dello Sri Lanka insieme lo sport unisce appunto tutte queste persone e ad esempio altro esempio in questo senso nel 2021 sicuramente avrete visto anche voi in Italia che nel 2022 scusate che c'è stata appunto questa sollevazione popolare sono sicuro che da qualche parte avete anche voi visto le foto degli Sri Lankesi che facevano il bagno nella piscina presidenziale e si guardava la tv sul divano del presidente ecco in questo caso di nuovo siamo riusciti ad unirci a differenza del nostro appunto di quelle che dovrebbero in teoria essere le nostre differenze e quindi sì effettivamente c'è un conflitto che dura che è durato appunto 26 anni in cui appunto abbiamo una maggioranza e poi una serie di minoranze e qui arriviamo appunto poi alla situazione in cui ci troviamo oggi ecco di questo conflitto che è finito nel 2009 adesso il paese è pacificato però è finito non con un accordo è finito con un vincitore e un vinto e il vinto era l'organizzazione delle tigri tamil che era l'organizzazione che rappresentava sul piano politico militare le popolazioni tamil anche se poi è complesso perché c'erano molti civili tamil che non volevano affatto prendere le armi in mano quindi la maggioranza di questa popolazione era contraria e fra l'altro tutto questo poi alla fine della guerra civile cioè dopo il 2009 ha comportato un esodo perché ci sono state anche comunità tamil gruppi tamil che sono venuti sono venuti anche in Italia sono a Palermo sono a Napoli sono in varie città italiane e su questo esodo uno scrittore italiano Arena ha scritto un romanzo molto bello che si intitola La letteratura tamil a Napoli e che racconta della vita segreta dei tamil che nella città sotterranea di Napoli si incontrano anche per scrivere ma questa è un'altra storia solo per dirvi che ci sono storie su queste popolazioni anche dopo la fine della guerra civile ma attorniamo al nostro romanzo che ha tre protagonisti principali il primo è Mali di cui sappiamo le tre passioni di uomini gioco d'azzardo la fotografia la seconda è Jackie la sua grande amica quella che lo ama e lo capisce forse più di chiunque altro e che col tempo si era assegnata al fatto che lui sia gay ma che continua ad amarlo e a proteggerlo a modo suo portandolo in giro coprendolo perché lo Sri Lanka dell'epoca è un paese profondamente omofobo quindi lei lo copre uscendo con lui stiamo parlando della metà degli anni 80 del secolo scorso e poi c'è Didi che è chiamato con i suoi con le iniziali del suo nome e del suo cognome che invece è il compagno di vita di di Mali e che è bellissimo e che Mali chiama il 10 perfetto da tanto è bello e loro e questi sono tre persone che si amano in modi diversi ma che vivono insieme nella stessa casa perché appunto le identità come le identità etniche anche le identità di genere sono fluide possono avere ed esprimersi in mille modi diversi e l'interazione fra questi tre persone sono forme di amore diverso ma tutto questo però è un mondo sotterraneo una vita sotterranea che si svolge nei club della della città principale che è Colombo e scrive Carun Attila noi siamo dentro una bolla cioè parla che parla attraverso la voce di Mali Albeda noi siamo all'interno di una bolla in cui possiamo in qualche modo cercare di essere noi stessi ma al di fuori di questa bolla c'è un paese che non permette a nessuno di essere se stesso perché ci sono massacri perché poi quando torniamo all'esempio che facevo prima il fruttivendolo da cui sono andato per vent'anni improvvisamente è diventato mio nemico quindi io brucio il negozio del mio fruttivendolo e quindi gli amici del mio fruttivendolo bruciano casa mia ed è davvero una follia collettiva perché le guerre civili sono questa cosa allora il romanzo ne racconta ma nello stesso tempo riesce ad avere e questa è una qualità meravigliosa di questo scrittore un'astrazione su tutto questo e la capacità di raccontare le cose con irania perché quello che dovete sapere è che in molte parti questo libro è veramente divertente cioè non è un incudine che parla di morte appena sono arrivato alla prima intervista con avvocato morto poi intervista con infermiere morto cioè Mali essendo un fantasma passa la sua settimana a dialogare con dei morti con dei fantasmi perché la storia del romanzo è una storia di fantasmi e qui c'è un'altra domanda che vorrei fargli lui Karunatilak in un'intervista a una in una video intervista indiana a un certo punto dice virgolette mi sono chiesto cosa direbbe un morto se potesse parlare ok allora io gli chiedo avrebbe potuto far parlare un morto per esempio dello tsunami del 2004 ve lo ricordate lo tsunami che spazzò l'Asia 200.000 morti dall'Indonesia all'India no addirittura fino alle coste dell'Africa una cosa lucida perché invece ha scelto di far parlare tutti questi fantasmi della guerra civile che in fondo è una ferita ancora aperta nella coscienza del paese perché questi morti perché questi fantasmi ci sono right the the heart of the novel is how he treated the people who loved him he didn't treat them very very well but interesting you talk about the colombo bubble because i i grew up in the colombo bubble and um even to this day we had an economic crisis but if you go to colombo if you went to colombo in december the christmas lights were on people were partying and spending money and it was almost like um yeah what crisis even though the poor were suffering and it was same that this was my experience uh growing up in the 80s during the war um we had checkpoints we had assassinations the occasional bomb blast but it was almost like the war was happening elsewhere and um i was interested in this character mali almeda that he he was an english-speaking uh middle class uh colombo elite but he chose to go to these very dangerous places and photograph these atrocities and i think the clue is in those three identities that you point out that he was um one thing he was very good at he found one thing that he was good at taking photographs um and he believed that these photographs would end the war but also he was a closet gay man i think going to these places allowed him uh to express himself sexually but and he was a gambler and so he didn't believe that there was any god or any cosmic scheme to these things everything was probabilities and luck and that's why whatever money he made he gambled and he that's why he's very surprised at the beginning of the novel to um to see that there is afterlife and there is some system that he has to deal with because he thought it was all random luck um and i've lost this uh thread of your say what was the thread of the second business all right right no no i got it i got it about the dead speaking right why the civil war and not the tsunami will the tsunami scusateci qua tutto un happening allora devo dire che effettivamente questo triangolo amoroso è molto interessante perché molto spesso appunto ci si sofferma di più sugli altri aspetti del libro della storia ovvero il fatto che appunto c'è chi ci vede un murder mystery no c'è un omicidio chi è che ha ucciso il fotografo c'è un morto bisogna capire cosa è successo oppure c'è anche un thriller politico perché perché questo fotografo era un fotografo di guerra ha delle foto scottanti che sono nascoste sotto il suo letto ed è convinto che queste foto se riesce a recuperarle da morto possano poi effettivamente fare la differenza diciamo così e poi c'è effettivamente anche tutto questo filosofeggiare dei morti che chiacchiano appunto molto amabilmente uno con l'altro quindi effettivamente il cuore di questa storia è proprio quella di cui parlavi tu ovvero quello che lo riguarda più direttamente forse il modo in cui Mali trattava le persone che lui aveva attorno quelli che a cui lui voleva bene che volevano bene a lui e non è che le trattasse proprio bene queste persone ricordiamoci un'altra cosa che c'è appunto questo riferimento alla bolla di Colombo che effettivamente è una bolla questo sì ed è anche la bolla da cui nasco io perché io appunto sono cresciuto a Colombo ci ho vissuto appunto negli anni 80 durante la guerra e nonostante ci fosse tutta questa cosa che stava accadendo attorno a noi vi posso dire che a dicembre se andava in giro c'erano le luci per strada la gente comprava un sacco di cose anche se i prezzi erano alti non è che tutti se ne potessero permettere però comunque era un mondo veramente a parte e poi sì c'erano i checkpoint c'erano gli assassini politici magari però era come un po come per noi a Colombo come se queste cose cadessero in un luogo distante come se non ci fosse veramente la guerra e quindi è per questo che ho scelto lui come protagonista perché appunto abbiamo Mali Almeida che è un anglofono nel senso che parla inglese molto correntemente che gli permette di fare tutta una serie di cose fa parte della middle class quindi di un'elite diciamo così eppure cosa fa decide di andare a fare il fotografo e fare il fotografo anche in maniera un po scomoda diciamo così perché perché capisce che effettivamente qui torniamo a quello che dicevi prima le cose appunto le tre cose importanti nella sua vita è bravo a fare foto si rende conto che forse fare le foto è l'unica cosa che sa fare bene e quindi tanto vale fare il fotografo appunto e poi perché va in questi luoghi di guerra a fare queste foto scomode perché in quel contesto lì essere gay mentre in un contesto diverso è molto scomodo lì è un po come se la cosa passasse un po in sordina nessuno si come dire si sconvolge più di tanto proprio perché la situazione è quella che è e poi scommette ad ora il gioco d'azzardo e questo è particolarmente significativo perché lui effettivamente non ha mai creduto in dio non crede che ci sia chissà che cosa dopo la vita dopo la morte lui è convinto che sia tutta questione di probabilità e di fortuna e per questo fino all'ultimo soldo che guadagna se lo gioca ed è per questo effettivamente che poi quando comincia il libro è così sconvolto all'idea di essersi presa una cantonata e cioè che effettivamente c'è qualcosa dopo la morte e poi qui appunto torniamo alla domanda no so it's interesting you mentioned the tsunami so where this beautiful island which some say is cursed because we have gone through so many catastrophes so we went through a complete economic collapse last year we had the easter attacks in 2019 we had a 30-year civil war we had a marxist insurrection we had the indian peacekeeping force trying to keep the peace but starting more wars and the tsunami is perhaps the only thing that wasn't really our fault it was a natural disaster but let me take you to the genesis of the novel so 2009 the war ended and for me growing up in the 80s and 90s we never our generation never thought the war would end it was something that we grew up with and we thought it was a forever war and then when it finally ended in 2009 a lot of us naively perhaps thought okay now the country is going to be unstoppable the war's over we can the wounds we can heal the wounds and move forward but all that happened in and I started thinking about this novel around 2013 there was a lot of bickering a lot of bickering about how the war ended how many civilians were killed whose fault it was who was to blame and there was no healing or looking back at the causes of the war and it occurred to me well what if we let the dead speak because the living clearly don't have a clue let the dead speak and let the victims of Sri Lanka's tragedy speak and what would they have to say about the country and what it's done to them and that's why I thought okay maybe a ghost story might be might be a way to go but of course I'm not very brave I'm in fact a pacifist and a coward so I didn't want to write about 2009 because it's a very controversial topic even today so I went back to 1989 which I remember and also the advantage is all the bad guys are dead all the good guys are dead so no one can take offense so I thought and and also I remember I was a teenager at the time it didn't make any sense to me we had the separatist conflict and there was a peace accord but then there were these three different wars and I look I even though this book has won a big award I'm 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 a fan of genre fiction of thrillers and detective fiction and murder mysteries and Agatha Christie and I thought the best place to set a murder mystery would be 1989 with this war photographer who was in cahoots with all different factions because that's the convention of a murder mystery you have a corpse and you have several parties who wanted him dead as you rightly point out the difference here is the corpse is also the detective and that's really where I where I began with and and the original title for this book was chats with the dead it was Mali Almeda going around interviewing the victims of many wars and every ghost that you find in the story is based on an unsolved murder on a um yeah on an unsolved victim of the war who who hasn't had justice and that's where I really began with but I think um my attempts to write a detective thriller were thwarted because the ghosts ended up talking too much and philosophizing and these ramblings get mistaken for literature and then it gets awarded prizes so I'm in the wrong section of the bookshop but that was that was the answer I thought um you know people say the island is cursed that's that's we always say that it goes back to 2000 years Kuwaiti's curse um or contemporaries say that it's foreign influencers it's the foreign conspiracy to destabilize the country but my theory was maybe the ghosts of our past are still hovering around and whispering bad ideas into people's ears which is why we keep going from catastrophe to catastrophe that's my expression anyway dunque appunto riguardo la domanda perché non ho deciso di parlare dello tsunami lo tsunami effettivamente forse una di quelle cose che ci fa pensare mi fa pensare che effettivamente quest'isola per quanto bella per quanto splendido sia appunto il contesto come abbiamo sentito prima sia maledetta abbiamo avuto tutta una serie di orribili cose che sono accadute ci sono stati gli attacchi di Pasqua ci sono stati appunto tutte le problematiche legate appunto al marxismo poi ci sono stati pacifisti indiani che sono venuti hanno creato ancora più violenza in virtù di questo tentativo di portare la pace esatto le forze di pace badate che hanno creato ancora più violenza e quindi diciamo così che forse lo tsunami è stata un po' una delle disgrazie tra virgolette che ci sono capitate che non ci siamo portati addosso noi stessi non ce la siamo chiamata no in questa cosa diciamo così quando vi voglio far capire un attimo da dove arriva questo romanzo dunque appunto 2009 abbiamo detto finisce la guerra e io come le persone della mia età noi che siamo cresciuti negli anni 80 90 così in fondo noi pensavamo che questa guerra non sarebbe mai finita sarebbe andata avanti per sempre e invece poi un bel giorno finisce questa guerra e quindi a quel punto noi giovani cosa pensiamo pensiamo vabbè allora adesso andrà tutto bene il paese sarà assolutamente invincibile chi ci ferma più riusciremo ad avere solo un successo dietro l'altro un successo dietro l'altro insomma questa scesa dello Sri Lanka per noi era quasi data per scontata e quindi nel 2013 comincio ad avere un'idea insomma nel 2013 quindi parliamo di quattro anni dopo la fine appunto della guerra comincio a avere l'idea di questo romanzo perché perché effettivamente dopo questo periodo finita la guerra da appunto quattro anni c'era tutto un gran parlare ma anche un gran discutere pochissima come dire pochissima chiarezza sul numero dei morti su cosa fosse veramente successo su chi aveva fatto cosa e soprattutto questo guarire come dire della comunità questo superare il trauma da parte della comunità non era ancora avvenuto per niente e quindi mi sono detto ma perché non lasciare che siano i morti a parlare visto che i vivi non hanno una più pallida idea di cosa stanno parlando se fossero i morti ecco noi possiamo chiedere magari che cosa è successo per di loro sì che ci possiamo fidare perché sono morti proprio in virtù di quello che è accaduto e quindi ho pensato che il format diciamo così della ghost story potesse essere interessante e poi c'è un'altra considerazione da fare io non è che sia così coraggioso e impavido anzi sono un pacifista convinto e sono anche un po' codardo se vogliamo e mi sono detto se l'ambiento oggi scatteno sicuramente qualche l'ira di funessa di qualcuno nei miei confronti ma se io questa storia l'ambiento nell'89 i protagonisti dell'epoca sono tutti morti e quindi nessuno poi se la può venire a prendere con me questo è quello che pensavo poiché non si sia offeso nessuno lì un altro discorso comunque quindi appunto abbiamo questo contesto diciamo così dove c'è dove c'è appunto un teenager che ero io che crescevo in quel periodo che pensa a come rimettere assieme tutti questi pezzi ci sono i movimenti separatistici, ci sono tre guerre, c'è un accordo di pace e poi c'è la situazione in cui ci si trova nel momento presente quindi insomma come riconciliare tutti questi aspetti in più c'è un altro elemento da considerare ovvero che a me i libri è sempre piaciuto leggerli e che cosa mi piace leggere? mi piace leggere tantissimo i romanzi gialli diciamo così da Agatha Christie in poi, thriller insomma quando c'è un mistero da scoprire e quindi mi sono detto a maggior ragione abbiamo il contesto perché appunto è il periodo degli anni 80, fine degli anni 80 l'idea appunto è quella del thriller, cosa facciamo? mi serve appunto avere un cadavere e avere un cadavere che debba scoprire in questo caso appunto la curiosità è il fatto che il cadavere e il detective sono la stessa persona però bisogna appunto che ci sia un crimine per cui bisogna scoprire cosa è successo e quando ho scritto questo libro inizialmente il titolo non era Le Sette Lune appunto di Mali Almeida ma era Chats with the Dead cioè chiacchierate coi morti e cosa succedeva? che appunto c'era il nostro pro de Mali che chiacchierava con una serie di morti per l'appunto e chi erano questi morti con cui parlava Mali? erano le vittime, le vittime appunto di questo conflitto e quindi le vittime per cui non si sapeva bene di cui non si sapeva bene cosa gli fosse successo come era poi nella realtà dei fatti effettivamente vittime per cui non c'era stata neanche mai giustizia ovviamente e quindi mano a mano che scrivevo con queste idee in mente cosa è successo? è successo che mi sono lasciato un po' prendere la mano appunto dal mio personaggio principale per cui la detective story forse è passata un po' non dico in secondo piano però insomma ha preso piedi soprattutto questa storia di fantasmi una storia di fantasmi che poi ha cominciato come dire questi fantasmi che filosofeggiano filosofeggiano e quindi qualcuno leggendolo ha pensato mamma mia ma questa è una letteratura proprio raffinata questo autore che scrive di fantasmi che filosofeggiano e quindi qualcuno ha detto facciamoci un bel libro ma che bello questo libro qualcuno poi ha deciso di farmi vincere un premio perché amavo e mica che questo libro è bellissimo insomma questo libro così si filosofeggia e quindi adesso il mio libro lo trovate in una zona delle librerie che io mai avrei pensato comunque questo per dire cosa per dire che effettivamente sono duemila anni che lo Sri Lanka in un certo senso può essere visto come un'isola maledetta per l'appunto c'è chi ipotizza anche che ci siano delle influenze straniere che vanno poi a influenzare quello che accade io quello che vi posso dire è che effettivamente è una possibilità da considerare che forse per me c'è un fantasma ci sono dei fantasmi che sussurrano all'orecchio degli Sri Lankesi di fare delle cose che poi si traducono in quello che è stata la storia dello Sri Lanka negli ultimi duemila anni Sorry, let me just add that as part of research for this novel I went on this mad road trip looking for ghosts so I went and visited tsunami villages haunted houses and what I found is wherever there was a village that was hit by the tsunami there were reports of apparitions rising out of the waves if there was a village that was massacred during the war there were reports of ghosts in the forests and all of that and you can read this two ways either there are restless spirits wandering around like the novel or it's how we process trauma because there is no official explanation it's not taught in schools it's not talked about we don't address our past so maybe this is how we keep the memory of the victims alive is through ghost stories I have to add that I never saw a ghost that doesn't mean they don't exist I feel there are a few in this room like I can see one looking down on us but I was interested in that that the ghost story is almost like replacing the fact that we have no history to make sense of this and I think that's a central part of the book that the idea how do we deal how does Sri Lanka deal with its past and I don't think it's unique to Sri Lanka I think perhaps it applies to Italy and other countries as well how do we deal with our past do we bury it and forget about it and that seems to be the majority view let's not talk about this stuff because why are you talking about it you want it to start again which is a privilege for people who weren't victims but the other view is we need to dig up our past scrutinize it make sense of it and make sure that it never happens again and that's the conflict in the book Mali Almeda has these two characters Dr. Rani and Sena who are telling him opposite things Dr. Rani is saying forget about your life walk to the light it's done where Sena is saying no that's exactly what they want you to think you need to go back and get justice because no one's going to provide justice so these were the things I was grappling with while I was going on to be fair I didn't use any of the I traveled around the country visited haunted houses I didn't use much of it but I was just interested how ghost stories seem to be part of the folklore when there is no official explanation and I would like to add an altra cosa che secondo me è importante sempre per inquadrare questa storia ovvero il fatto che mentre mi preparavo appunto a scrivere questo libro proprio per approfondire un po' la questione ho deciso di andare un po' in giro in giro per lo Sri Lanka nei luoghi più colpiti appunto dallo tsunami sono mi sono appunto addentrato in tutta una serie di scusa in tutta una serie appunto di situazioni particolari perché seguivo la traccia dei fantasmi che cosa voglio dire che effettivamente laddove c'erano state dei morti per lo tsunami erano state segnalate presenze apparizioni di fantasmi che poi è un po' la stessa cosa che si sentiva dire nei luoghi nelle foreste dove c'erano stati dei massacri vicino ai luoghi dove c'erano stati dei massacri durante la guerra anche lì c'erano appunto dei fantasmi che cosa vuol dire questo? può voler dire certo che ci siano degli spiriti inquieti che continuano a tornare che non vogliono andarsene perché in virtù di ciò che è successo ma potrebbe anche voler dire un'altra cosa potrebbe anche voler dire che siamo noi i vivi che facciamo fatica a fare i conti con quello che appunto è successo nel nostro passato perché? perché non abbiamo una spiegazione per ciò che è successo nel nostro passato perché a scuola non lo insegnano non parlano della guerra non parlano di quello che è successo e quindi questo è un modo in qualche modo per tenere viva anche la memoria di chi non c'è più di chi è sparito di chi se ne è dovuto andare per forza e resta come? come fantasma e chi non ha magari qualcuno a cui pensare che resta magari come fantasma chi può dire che non ci siano in questa stanza una serie di fantasmi io uno in realtà lassù lo vedo che è qua con noi questa sera quindi devo dire che effettivamente perché c'è la necessità di avere questi fantasmi perché non c'è la storia a raccontarci che cosa è successo veramente e questo fa sì che effettivamente sia sia necessario elaborare quello che è successo in questo modo e badate non è una questione legata solo esclusivamente allo Sri Lanka perché in realtà magari adesso da noi appunto questa cosa non si insegna e quindi non si riesce a elaborare a livello appunto umano però in realtà succede anche in altri paesi magari anche in Italia ci sono delle cose che si faticano a elaborare quindi magari c'è il fantasma di turno che si palesa perché che cosa fai in una situazione del genere quando c'è una cosa brutta che non vuoi ricordare a maggior ragione nella storia di un paese puoi ignorarla deliberatamente affossarla metterla ricoprirla di tanti strati in modo da non ricordarti neanche più di cosa si tratta e magari se sei un privilegiato che non hai avuto l'impatto di ciò che è accaduto non ti ha colpito direttamente puoi farlo per gli altri è un pochino più difficile oppure puoi avere l'atteggiamento diverso cioè puoi cercare di mantenerlo vivo questo passato puoi cercare di ricordarlo comunque questo passato ed è un po' queste due forze diciamo così sono poi le due forze che troviamo nel libro perché insieme a Malice ci sono appunto queste due figure che hanno su di lui grande come dire grande influenza e da una parte abbiamo appunto il dottor Rani che cosa dice dice ma no dimentica cosa te ne importa lascia stare la tua vita passata guarda il futuro entra nella luce e che è stato quello che è stato è stato pazienza e di contro abbiamo Sena che dice cosa invece dice no è proprio questo che loro vogliono vogliono che tu non ricordi niente perché così possono continuare a fare quello che hanno fatto fino adesso noi dobbiamo ricordare dobbiamo scoprire cosa è successo per avere la giustizia per chiederla questa giustizia e quindi appunto tutto questo mi ha ispirato e devo dire è anche stato molto difficile da gestire nella stesura appunto di questo libro ed effettivamente sì io non ho tutte le risposte devo dire che di tutte queste storie di tutti questi fantasmi che ho incontrato nei miei giri in Sri Lanka poi alla fine ne ho usati pochi forse non ne ho usato nessuno però comunque sì è stato molto interessante capire come il fantasma di per sé possa essere anche qui appunto nella nostra vita quotidiana e possa avere una valenza molto diversa da quello che uno potrebbe pensare un'altra cosa parlando di fantasmi questo signore affronta dei temi molto importanti a volte anche drammatici ci sono dei momenti duri per esempio a un certo punto Mahal Media dice non cercare i buoni perché qui non ce ne sono quindi non parteggia per gli uni o per gli altri perché nella follia generale della guerra civile non distingue più dice non ci sono i buoni allora la mia domanda però è questo come ha fatto a trasformare un tema così duro e incandescente in alcune pagine invece in un libro meravigliosamente divertente la domanda in realtà esattamente è questa di quanto quanto possiamo spingerci avanti quando ridiamo di qualcosa e voglio farvi un esempio possiamo ridere di tutto allora voglio fare un esempio il grande Charlie Chaplin il padre di Charlot fece un film in cui impersonava l'Hitler che si chiama il grande dittatore in cui meravigliosamente rappresenta Hitler che balla nel suo studio facendo volare un mappamondo come dire io sono il re del mondo e satireggia su Hitler però è una cosa terribile cioè si può ridere di Adolf Hitler Charlie Chaplin fu contestato per questo cioè tu va bene hai messo in ridicolo Adolf Hitler ma sei sicuro che si possa ridere di Hitler e io vorrei leggergli la risposta di Charlie Chaplin per avere la sua opinione e Chaplin rispose sì secondo me dobbiamo poter ridere anche di Adolf Hitler almeno ogni tanto se non possiamo farlo allora la nostra condizione umana è peggiore di quello che crediamo perché ridere fa bene anche sugli aspetti più sinistri della vita e della morte ridere è un nostro diritto cosa ne pensa il suo order, si arriva, perché non voglio essere chiamato. E' sembra che l'amore è una cosa che noi usiamo come un' defenseme perché anche in la città di l'economia crisi, quando le persone stavano per giorni in petrol queues e non c'erano in supermercati, i petrol queues, c'era molta tensione e tutto questo, ma c'erano people cracking jokes, playing cards, watching the cricket match, celebrating when we beat Australia, and it seems like either we're gonna punch each other or we're gonna make jokes about each other. And as my great influence, Uncle Kurt Vonnegut says, it's better to laugh at each other than hit each other because it's much less messy. Laughter is much less messy than crying. And I think that's, maybe it's part of the Sri Lankan sensibility and maybe it's part of my sensibility. I think both my novels, my first novel was about an old man drinking himself to death while watching cricket. But again, he had this sense of humor and this sense of absurdity and irony to look at, look at Sri Lankan, look at his own life and make fun of it. And I think perhaps if I'd written a serious novel, it would have been very difficult to read and certainly difficult to write. And so I chose Mali Almeda, who's, and I think he was intentional that he was this closet queen. So he had all these wisecracks, even when he's watching his body being, in the first chapter, he's watching his body being cut into pieces and chucked into a lake. He sort of sees the humor in it and the absurdity in it. And I think, yeah, even to this day, we see, if you visit Sri Lanka, please do, we need the tourists. Our economy needs your euros and your dollars to come back. You'll find it's still a very friendly place. And even when you talk about the war, people will crack jokes about it. And so I don't know, I mean, I think in one way, you're right. It is, and I was very mindful when I was writing this, when I, there are sections where we visit torture chambers and yeah, we visit massacres and, you know, you can't really crack jokes there and you shouldn't. And so it was a fine line balancing that. But I think really when I look at Sri Lanka, it's just, it's an absurd, absurdly comic country. And I, to miss that is to miss a real part of the Sri Lankan stories. So I think maybe this is a way to make it palatable that we can talk about these grim things and see the absurdity in it. But I think that for me, Charlie Chaplin, in tanto per cominciare, era un po' seccato del fatto che Hitler gli avesse rubato l'idea dei baffi e quindi nessuno se li sia più potuti utilizzare questi baffi da quando poi se li ha presi Hitler. E vabbè, quindi forse era già partito un po' seccato dalla faccenda. Comunque, a parte gli scherzi, devo dire che, sì, è vero, Sri Lanka ha dei trascorsi, un passato difficile magari da affrontare che non è sicuramente tutto rose e fiori, però effettivamente è vero, come giustamente dicevi tu, che il popolo è sorridente, il popolo ha un atteggiamento completamente diverso. Io vi posso dire che prima appunto di fare lo scrittore mi occupavo di copywriting e scrivevo ad esempio le brochure per i turisti piuttosto che per le compagnie aeree e cose del genere. Quindi anche lì hai voglia tutti che, scusate, che parlavano appunto di sì, il sorriso, il sorriso. In Sri Lanka ci sono questi sorrisi splendidi appunto che ti accolgono così caldi, così l'accoglienza in Sri Lanka è assolutamente splendida. È vero, però devo dire che io stesso, sri lanchese io stesso, sono un po' sospettoso quando tutti ti sorridono così, nel senso che in Sri Lanka ad esempio se arriva il cameriere e si è sbagliato col tuo ordine, ti porta una roba che non c'entra niente, ti sorride perché è terrorizzato che tu gli dica chissà che, e quindi sorride, ha capito? Quindi c'è diciamo questa tendenza a sorridere e anche questa tendenza a ricorrere allo humor, forse come arma di difesa anche mi verrebbe da dire. E se penso ad esempio a quello che è successo veramente nel paese, ad esempio durante la crisi economica, dove era veramente una situazione terrificante, c'era non so, dovevi andare a far benzina, stavi in coda ma per ore e ore e ore, beh, cosa succedeva? Che la gente giocava a carte, che la gente parlava, chiacchierava, magari sentiva la partita di cricket, quando abbiamo vinto contro l'Australia, le grande feste, la gente in coda che saltava come pazzi dalla felicità, e quindi, insomma, cosa fai? Non è che hai tante alternative, o ti massacri di botte perché sei frustrato, non ne puoi più, oppure fai due battute, cerchi di buttarla sul ridere, questo sì, e come diceva appunto quello che io chiamo lo zio Kurt, Kurt Vonnegut, effettivamente è meglio ridere che appunto prendersi a botte, diciamo così, perché quantomeno si fa meno disordine, diciamo, attorno, per cui insomma è più semplice farsi una risata che non appunto prendersi a pugni in faccia. E ad esempio il mio primo, ogni romanzo precedente, parlava di un uomo che beve, beve, beve tantissimo, un uomo che appunto arriva addirittura a morire e che ha questa passione per il cricket, però non è che l'ho raccontata solo raccontando questa storia, c'è anche un elemento appunto di humor che poi è proprio dello Sri Lanka, non c'è niente da fare, è difficile effettivamente, immaginiamoci di leggere un libro come questo che non ha dello humor da nessuna parte, diventa veramente molto serio come libro da leggere e quindi in un certo senso mi ha aiutato a raccontare la storia perché effettivamente, per chi non l'avesse letto, non vogliamo fare spoiler, però insomma c'è nel primo capitolo, c'è Mali che a un certo punto è lì, fantasma che guarda il suo corpo che viene accettato in vari pezzi e gettato in un lago e lui ha una reazione molto piena di humor a questa scena assolutamente surreale e ricordiamoci appunto che stiamo parlando anche, come abbiamo sentito prima, di una persona che era un gay non dichiarato in un contesto molto omofobo per cui appunto lo humor o ce l'hai oppure non sopravvivi proprio in un contesto del genere e tra l'altro appunto devo dire che anche adesso comunque sia, lo Sri Lanka è un posto bellissimo e amichevole, apro una parentesi, venite in Sri Lanka, noi abbiamo bisogno dei vostri euro, abbiamo bisogno dei vostri dollari, venite in Sri Lanka, non vediamo l'ora di accogliervi in Sri Lanka, chiusa parentesi, però effettivamente non so quale sia stato appunto il motivo che mi ha spinto ad avere questa vena molto ironica anche perché effettivamente questo libro ha delle pagine che non sono per niente facili, ci sono delle scene di tortura con la camera appunto della tortura, ci sono delle scene di massacri che sono quelli della guerra, per cui insomma lì, come dire, bisognava cercare di mantenere l'equilibrio, era veramente, non era facile in alcuni casi, però di contro c'è anche questo elemento dell'assurdo, perché è talmente assurdo quello che accadeva che diventa comico l'assurdo e appunto proprio per quello forse per rendere, come dire, per far digerire tutte queste nefandezze di cui si parla e che sono successe nella storia dello Sri Lanka è necessario buttarsi sull'assurdo e buttarsi sullo humor. Ecco, a proposito di humor, purtroppo io invecchiando ho i neuroni che non si parlano più uno con l'altro, però mi ricordo che c'era un grande comico francese di cui non ricordo il nome che diceva che l'umorismo e l'ironia in particolare sono la cortesia della disperazione è quando tu ti trovi in situazioni drammatiche come quella che racconta il nostro autore nella guerra civile che per sopravvivi impari a distaccarti e a usare l'ironia e questo meraviglioso dono dell'ironia il signor Carunatilaca ce l'ha e ce l'ha molto bene ma lui ha parlato prima del suo precedente romanzo Chinaman che non è pubblicato in italiano e che io spero di vedere pubblicato presto in italiano spero che ci sia qualche editore che lo pubblicherà ma a proposito di questo vorrei chiedere a Mr. Carunatilaca qual è il suo modo di lavorare come scrittore come affronta il problema della pagina bianca qual è il suo ritmo di scrittura quanto si è documentato il lavoro dello scrittore come lo vive well yeah my first book I asked my agent why is it not being published in Italy and he was like well Italians don't like cricket and write me another book but I was told Italians don't like rugby and you guys just won your top of the table no one's aware no one cares but yeah maybe 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 Italians but the book is not about cricket but yeah what kind of writer I turn up to work every day and I think that's the only way to do it and I have small children so I wake up very early 3-4 in the morning which means you gotta go to sleep at 7-8 do they sleep by night? do the children sleep? oh well now the grandparents are looking after them and they're in bed by 7 when we are home it's a struggle but yeah I try and get up at 4 because yeah you have those 3-4 hours where the internet no one is Facebooking you your phone is dead your children are asleep and you that's good by 8 o'clock my day is over and I turn up to work every day even when and I think maybe this is something I got from advertising because you know when you're when you're a copyrighter and the client's gonna turn up on Thursday if it's Wednesday afternoon and you don't have an idea you have to come up with something you can't wait for inspiration so I and this book was a struggle it took 7 years and I I try also as you outlined there's a lot of moving parts to it and and all of that and and I struggle I rewrote this about 4 times and then in 2017 Lincoln in the Bardo by George Saunders won the Booker Prize and I was like a talking ghost book has won the Booker Prize there's no room for another one but thankfully there was but yeah it was 2020 I finished I thought I'd finished the book Chats with the Dead and I couldn't find a publisher so I spent the whole pandemic rewriting it but yeah I I wake up early and I I will sit there for 4 hours even if I write 2 sentences I'll do that every day and yeah I try and keep sane and happy and not get too depressed and I think you're right humor humor helps as well you've got you've got to see you know no one's sitting there forcing you to do this so you have and what usually happens is I'll work from Monday to Saturday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday I'm watching YouTube and I'm watching cricket matches and arguing with people on the internet but Thursday I'll get 3 paragraphs and Friday I'll get 2 pages and that is a good writing week and so I just have faith in that I think this is what separates writers from civilians I think civilians write badly and they think this is not for me I should do something better with my time writers write badly and they think okay I'm going to come back tomorrow and day after I'm going to put this aside come back in 2 months and rewrite it and I think this is a product of that you keep at it and yeah if you get 3 pages a week that's a good week but you have to sit there and suffer for 3 days of nothing Allora devo dire ho chiesto ho chiesto al mio editore ma perché il mio libro non l'ho pubblicato quello precedente China Mean in italiano e mi hanno detto perché in Italia non gliene frega niente a nessuno del cricket mi spiace tanto e anche lì non è detto non è vero poi non è che parlo solo del cricket per cui non è detto però effettivamente questa è la ragione che mi hanno dato che mi ha dato il mio editore cosa devo dire allora come scrittore devo dire che io soprattutto mi impongo di andare in ufficio tutti i giorni per così dire io ho dei bambini piccoli chi ha bambini piccoli mi capisce quando si svegliano alla fine non puoi più fare niente per cui diciamo che io adesso ad esempio sono con i nonni e i nonni sono rigidissimi per cui alle 7 li fanno andare a dormire e lì insomma in qualche modo riescono ad avere una vita più o meno normale la sera però non è così semplice e quindi io devo dire che di solito alle 4 del mattino mi alzo e alle 4 del mattino perché? perché oltre a non avere i figli che mi distraggono nessuno mi messaggia su facebook non devo litigare con nessuno non commento sui post non ho nessuna preoccupazione nessuno mi chiama al telefono va tutto bene appunto i bambini di qui sopra mi lasciano tranquillo e la mia giornata finisce alle 8 quando si svegliano i miei bambini la mia giornata di scrittore ovviamente forse il ritmo diciamo mi arriva un po' dai miei trascorsi appunto come nella pubblicità perché cosa succede? perché praticamente di solito i primi giorni della settimana non succede mai niente e poi arriva il clientone importante magari il mercoledì sera il giovedì mattina che ti dice mi serve un'idea assolutamente per venerdì devo fare questa cosa e quindi in qualche modo uno deve trovare insomma un modo per cavarsela questo libro oddio ci ho messo sette anni a scrivere questo libro non è stato per niente facile anche perché ci sono tanti elementi che si incastrano e si spostano e si muovono e soprattutto vi condivido questo dolore nel 2017 appunto Lincoln nel bardo vince il Booker Prize di appunto George Sanders e io mi dico vabbè vorrà dire che mai più nessun libro che parla di fantasmi vincerà il Booker Prize e poi mio malgrado dolorosamente ecco che un altro vince il Booker Prize parlando sempre di fantasmi comunque effettivamente in realtà ci ho messo veramente tanto perché poi non riuscivo ad arrivare alla versione come dire finale che andasse bene quindi durante ad esempio la pandemia l'ho riscritto per l'ennesima volta cercando appunto di veramente di arrivare a trovare la forma la versione giusta per così dire quindi che cosa vuol dire però questo vuol dire che ti metti lì ti siedi e per quattro ore cerchi di non fare niente ma soltanto di dedicarti allo scrivere stai lì seduto ti concentri poi magari scrivi quattro frasi pazienza però effettivamente magari la difficoltà è cercare di resistere alla depressione a questi momenti di sconforto che ti vengono e qui di nuovo ti torna in aiuto lo humor di cui parlavamo prima anche perché in fondo nessuno ti costringe a fare lo scrittore diciamoci le cose come stanno quindi insomma se fai lo scrittore vorrà dire che ti piace anche no e poi diciamo che io sono comunque molto disciplinato perché ho questa settimana lavorativa dal lunedì al sabato e passo appunto dal lunedì fino al mercoledì sera giovedì a guardare un sacco di video su youtube ovviamente seguire il cricket perché sapete ormai che per me ho una passione assoluta facebook perché comunque devo commentarli tipo su facebook e poi la gente mi scrive le cose mi fa arrabbiare quindi devo reagire poi arrivo il giovedì e dico mamma non ho fatto niente questa settimana allora a quel punto mi butto a pesce cerco insomma di concludere qualcosa il venerdì di solito riesco anche appunto a essere produttivo e alla fine poi è questa la grossa differenza tra gli scrittori e quelli che io chiamo i civili ovvero il fatto che un civile scrive dice mamma mia che schifezza non posso farlo lo scrittore oggi ho scritto proprio delle porcherie lo scrittore arriva a fine giornata e dice mamma mia che schifezza non posso proprio farlo lo scritto l'ho scritto proprio delle schifezze ma domani ci riprovo intanto vediamo perché insomma comunque questo faccio noi lo scrittore ci torniamo domani e quindi insomma diciamo che forse tre pagine a settimana non sono poi così male come media anche se effettivamente forse uno dovrebbe dedicarci un pochino più di tempo durante la settimana grazie allora noi salutiamo il nostro autore io ringrazio voi ringrazio il circolo ma vorrei salutarlo leggendovi solo due righe se mi consentite perché ci tengo che lui le sappia sono tratte da un articolo che ho scritto da una recensione che ho fatto del libro perché secondo me contengono l'anima di questo libro quella che secondo me è l'anima e citerei a leggerle questo romanzo di anime dannate è dannatamente divertente è un capolavoro di un'arte rara fare ridere mentre stai seduto sulle macerie è un'arte da equilibristi del circo che camminano sul filo senza rete è questo che fa lui grazie grazie a tutti grazie a tutti